Ci troviamo all'interno della cucina del ristorante La Conchiglia di Arma di Tangia. Io mi chiamo Giacomo Ruffoni, ne sono il titolare e alla mia destra il mio chef capopartita Loris Dolzan. Andremo a realizzare un piatto che esalti particolarmente quelli che sono i profumi della riviera del nostro territorio e quindi l'olio e i carciofi che oggi andranno a giocare un ruolo determinante nella preparazione di questi tagliolini conditi con lo scorfano, il carciofo e l'olio DOP della riviera Ligure. Ecco, il nostro scorfano è stato sfilettato. Con la testa e la coda andiamo a preparare un fumetto. Mettiamo tutto a freddo. Bene, il nostro fumetto sta andando. E a questo punto ci dedicheremo alla realizzazione del piatto vero e proprio. Tendo a sottolineare che l'olio DOP della riviera Ligure dà un tono molto particolare, un sapore molto particolare al pianto. Con il suo retrogusto di carciofo e talvolta di mandorla non fa altro che esaltare il tutto di quanto noi andremo a mettere. Mentre la polpa dello scorfano va a sfrigogliare con i gambi di perzzemolo e l'aglio e l'olio, andremo a bagnarlo con un goccio di vino bianco secco. Sfumiamo con il vino bianco. Aspettiamo che il vino bianco vada via e mettiamo il nostro fumetto di pesce. Aggiungiamo del pomodoro tagliato a dadini. E aspettiamo che vada a cottura questa base. I nostri tagliolini stanno andando. Il nostro carciofo che non farà altro che integrarsi ed esaltare ulteriormente le caratteristiche del nostro olio DOP della riviera Ligure. Mettiamo il nostro olio DOP della riviera Ligure. Mettiamo uno spicchio d'aglio in camicia a profumare. E andremo a versare dentro questi i nostri carciofi che dovranno rimanere al dente. Andremo a saltellarli, come si suol dire, qualche minuto. Scoliamo i nostri tagliolini. Andremo ad aggiungere con tutto l'olio i nostri carciofi perché darà maggior sapore ancora. Voilà. Ecco fatto. E quindi andremo a mantecare. A questo punto aggiungiamo ancora un filo d'olio DOP della riviera Ligure per impreziosire ulteriormente il piatto. Bene, il tagliolino direi che è pronto. Procediamo ad impiattarli. Andiamo a impiattare i nostri tagliolini. Andiamo ad aggiungerli. Non metterlo tutto. Andiamo ad aggiungere i carciofi e la polpa dello scorfono. Andiamo a decorare con la pelle dello scorfono che è stata arrostita e alcune foglie di basilico. della polvere di pomodoro secco e per finire un tocco un tocco d'olio un tocco di DOP della riviera Ligure. Il piatto è finito. Il piatto è finito. Grazie. Grazie.